Oggi è giovedì 22 febbraio 2018, prove di concimazione biologica nella fattoria Gallorosso. Queste sono piante di zafferano a cui è stato somministrato in volume a questa pianta il 2% e si nota che ha le foglie ingiallite. Questa pianta invece, in questo vaso, è stato dato il 3% e anche qui un po' meno, però l'ingiallimento c'è stato. In questa è stato dato il 5% e come si nota è ancora minimo l'ingiallimento. Invece su queste è stato dato il 10% di vermicompost aletame o humus di lombrico e come si nota non c'è nulla. Lo sviluppo è rigoglioso, la pianta è bellissima, 60 cm di lunghezza fogliare. Quindi, piante splendide.